Finalmente ritorniamo a teatro e devo dire torniamo contenti perché stiamo notando una risposta del pubblico che ha voglia di ritornare, quindi siamo molto contenti. Si è aperto il sipario dell'undicesima edizione di una stagione a quattro stelle Gilberto Idonea, rassegna firmata artisticamente dall'attore e regista Alessandro Idonea. Moltissimi gli spettatori che hanno assistito al Metropolitan di Catania allo spettacolo inaugurale della nuova stagione. Liolà di Luigi Pirandello, grande classico della tradizione siciliana. Alessandro Idonea, che ha ripreso la regia del padre Gilberto, ha vestito i panni di Nelly Liolà. Questo spettacolo mi lega a doppia mandata perché è stato il mio debutto da piccolo, ero uno dei tre bambini, facevo tiniddu, e perché è stato il mio primo spettacolo da protagonista al fianco di papà, sempre in questo teatro, al Metropolitan, quindi è uno spettacolo a cui tengo molto. Toccare ogni volta un classico come questo è veramente una grande emozione e anche abbastanza paura, perché non si finisce mai di scoprire tutte le sfaccettature di ogni battuta, di ogni personaggio, di ogni sequenza dello spettacolo. E quindi ogni volta è una riscoperta potersi rimmergere in questi classici. E poi è Pirandello, e quando tocchi Pirandello per noi attori è veramente come se avessi un paracadute enorme che già di per sé è un salvataggio. Ad affiancare i Donia, i Scena, i nomi forti della compagnia. Bruno Torrisi è stato lo zio Simone, Manuela Ventura, Tuzza, Loredana Marino, Mita, e Giovanna Criscuolo, la zia Croce. Sul palco anche Angela Sapienza, Antonella Cirrone, Chiara Seminara, Anita Indigeno e Federica Fischetti. Alla rappresentazione ha partecipato anche Carmela Buffa Calleo. La prima volta che ho interpretato la zia Croce avevo dieci anni meno, quindi ero molto più giovane, caricavo magari un po' di più sul trucco, caricavo un po' più sulla vocalità, perché chiaramente era un po' lontano anagraficamente da me. Quindi c'era anche un'incertezza, se vogliamo. Adesso, a dieci barra dodici anni di distanza, sicuramente mi sento più vicina, intanto perché sono madre. E quindi già questo sicuramente è un punto a favore mio. E poi perché anagraficamente sono cresciuta, spero di essere cresciuta anche artisticamente. Lo zio Simone non è che può avere tante sfaccettature, quello è uno dei personaggi negativi di questo li o là. Un po' tonto anche per certi versi, anche se poi lui si crede furbo come una volpe, però alla fine infatti non andrà bene a nessuno. Se non all'io là, che è quello che rompe le regole. Il pirandello ci vuole dire qualcosa forse, ci vuole dire che chi rompe le regole a volte non è per forza la parte legativa, ma spesso invece è la parte più creativa, la parte più fantasiosa e quella che ha più senso di umanità. Mentre il zio Simone è poco umano, è molto legato non alle persone ma agli oggetti, alle cose, alla roba. Del Casso doveva far parte anche nell'Ina Fichera, oggi 92enne, storica attrice della compagnia dei tempi di Gilberto Idonia, che ha dovuto però rinunciare per un piccolo incidente. Dopo lo spettacolo di sabato pomeriggio, durante i saluti e i ringraziamenti al pubblico, Alessandro Idonia l'ha chiamata sul palco e l'ha ringraziata per il mezzo secolo di attività teatrale, con un mazzo di fiori e una gigantesca torta. Grazie a tutti.